Siamo qui con Federico Timo, secondo allenatore Virtus Fano, dopo la sconfitta con Ostravetre per 3-0. Prestazione non esaltante sia dal punto di vista del gioco sia tecnico. Una prima impressione a caldo? La partita non è andata come ci aspettavamo. La squadra non è spesso il miglior volley. Nonostante i primi due set la squadra sia stata positiva punto su punto, ma non siamo riusciti a chiudere la partita come ci aspettavamo. Rispetto al sabato scorso abbiamo visto un'involuzione nel gioco. Sabato il 3-2, anche se una sconfitta, abbiamo visto del buon gioco, delle buone soluzioni. Alla base di questa involuzione c'è stato qualche problema in settimana? Sicuramente la squadra in settimana non si è allenata al massimo, con poco ritmo, qualche piccolo infortunio non ci ha permesso di preparare la partita al meglio. Quindi ci aspettiamo già dalla prossima settimana. Una buona evoluzione dal punto di vista del gioco e speriamo anche del risultato. Abbiamo parlato con i ragazzi subito dalla partita, abbiamo subito chiarito quelle piccole cose che devono cambiare, soprattutto in allenamento, più cattiveria e agonistica, più di tutto diciamo. Quindi ci aspettiamo un buon match nella prossima giornata. Grazie Federico e ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao.